buongiorno buon martedì oggi 19 settembre ore 9 25 avete preso il caffè avete fatto colazione prime pagine dei giornali attenzione perché aggiungo le prime pagine anche delle notizie dell'ultima ora e titolo azzeccato titolo azzeccatissimo fine dei giochi il governo il governo di centrodestra non la manda non sta fermo e non la manda a dire tramite piccione viaggiatore ma manda una raccomandata diretta a tutti quei buonisti e fassi buonisti che fino ad oggi hanno poco hanno voluto fare il governo è particolarmente lo vedo particolarmente diretto l'intervento del governo attuale la meloni non non risparmia diciamo provvedimenti duri e prima però di parlare di questo se vi saluto carlo clemente buongiorno da castellanetta provincia di taranto 20 28 gradi c'è ancora caldino è soleggiato dice con gra con vento di scirocco e poi abbiamo laura buongiorno bruna claudio abbiamo patrizia abbiamo giuliana luigi davide paschetta invece da culo saruzzo altro inviato metro del nord 19 gradi ci manda un saluto mitico davide e sandra anna emma allora ragazze vi chiederei di condividere come sempre di seguire la pagina se non avete ancora fatto il commento il messaggio è sempre ben voluto detto questo andiamo al sodo amici perché non è non voglio fargli perdere tempo anche la mattina dobbiamo lavorare chi deve fare la spesa chi deve pensare alla famiglia insomma ci sono tante cose da da fare alla mattina presto attenzione governo più incazzato che mai linea dura sui migranti e la sinistra mentre la sinistra prende in giro tutti e vi farò capire chi è che lo dice perché auto multe da capogiro a chi sgarra pom qua si va giù pesante usi il cellulare in macchina sono migliaia di euro di multa e te ne accorgi bulli a scuola e vorrei un vostro parere torna il voto in condotta questi sono tra gli argomenti più importanti di oggi poi sul covid novità proteina spike altre novità quindi partiamo dal primo giornale andiamo con il corriere della sera a proposito di sbarchi scatta la linea dura le misure sull'immigrazione e il rifiuto della francia non accogliamo chi approda lampedusa attenzione prolungata a 18 mesi la permanenza nei cpr meloni nell'unione europea e l'unione europea c'è chi lavora al contrario nell'unione europea ed è purtroppo che lavora contro e fa al contrario di quello che dovrebbe fare assolutamente poi si parla di divisioni per i porti di arrivo no in odio della missione navale e poi abbiamo i profughi in cerca di cibo invaso il paese di camilleri veramente situazione penosa quella che stiamo vivendo in queste ore in alcuni luoghi italiani per questi invasi questa invasione e piccato non siamo preparati non siamo pronti siamo completamente abbandonati a noi stessi poi attenzione questo è un articolone vediamo cosa ne pensate voglio proprio vedere un vostro parere no scuola rimandati ai 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 mattarella e i migranti grande potenziale questo è quello che dice mattarella buon per lui poi scuola rimandati con il 6 in condotta istituti tecnici in quattro anni e attenzione perché torna il voto in torna il voto in condatti in condotta cosa ne pensate la domanda è questa siete concori che se uno non fa il bravo a scuola e rompe le balle tutto il giorno va rimandato a settembre d'estate invece che fare due tre mesi di vacanza si fa tre mesi di studio con un culo così per ripassare tutte le materie io assolutamente sia il 5 condotta boccierei direttamente chi è che l'ha detto mauro mauro catena bravo mauro esatto 5 condotta bocciato rifai l'anno perché hanno rotto hanno vanno proprio bocciati cioè se tu alla scuola e sei un bulletto da strapazzo tu ti rifai l'anno vedrai che la quinta volta che lo rifai ti passa la voglia di fare il bullo con i più deboli e sono d'accordissimo linea dura giustissima in questa cosa ma anche al volante e adesso andiamo a vedere altri articoli vediamo che dice repubblica sono partiti dai giornali e diciamo allineati al partito democratico io questa mattina avete visto do spazio a loro do spazio a tutte differenze di altra informazione che solo di parte saiede pretende che i fondi europei si parla della tunisia di questo patto con l'unione europea che salta salta il patto proprio e saiede e pretende i fondi europei per fermare le partenze non siamo che non siano vincolate le realizzazioni di progetti per brux era una condizione inaccettabile attenzione perché questa cosa della tunisia e qui lo dico e non lo nego anche su tanti amici tunisini attenzione amici perché la tunisia deve fare un tentativo tra virgolette di estorsione nei nostri confronti è un vero tentativo di estorsione e lo dice anche la mia maglia guarda lo dice anche la mia maglia che non trovo più eccola qua la mia maglia che non ho messo me la sono dimenticata amici la maglia dice che questo tentativo quello che sta facendo la tunisia è un tentativo di estorsione ogni dubbio è lecito amici la mia maglia è qua è qua come se l'avessi indosso e attenzione quindi saiede vuole i soldi vuole i soldi dice se tu mi dai soldi una bella mazzetta io non faccio partire i migranti cosa un po triste l'alto commissario onu grandi tanti annunci ma che loro hanno gli aiuti per i paesi poveri intanto abbiamo il governo che decreta i nuovi centri per il rimpatrio via ai lavori delle tendopi le intraragioni taiani presenta le nazioni unite un piano per l'africa vabbè andiamo a vedere altri giornali cambiamo quotidiano la stampa dalla prima pagina a che cosa i migranti la stretta della meloni il governo che non scherza più si va giù pesante è un vero proprio caos europeo sul patto di sayed la premier borrell e gelene ci sabotano il pd via legali per entrare attenzione perché il pd sta facendo una cosa a mio parere gravissima cosa fa in sostanza lancia dei messaggini no che fanno capire queste donne incinta e lo dico quindi lo dico per i tanti per i tanti africani che hanno dei parenti in africa avvisateli se le donne che arrivano in italia sono incinte e fanno nascere qua i bambini i bambini non hanno diritto a nessuna nazionalità zero 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 questo lo dico perché non pensate di venire qua perché il pd vi racconta favole parlano hanno la bocca che palle pd come fanno sempre no come come i lavori in emilia romagna i ponti i fiumi la ricostruzione terremoto ricostruzione alluvione sono dei chiacchieroni sono parliamolo onestamente chiacchiano sono bravi a chiacchierare bene o sono bravi a pagare l'alma cromista questo è il massimo che possono fare i pidini quindi dopo l'alma cromista però esiste il mondo reale nel mondo reale amici la verità qual è che stanno raccontando delle una falsa narrazione dicendo che chi viene in italia incinta e la donna partorisce in italia bambina di bambino il bambino è praticamente cittadino non è diventa no no amici non è così non è così non diventa italiano perché non è così la legge quindi non attenzione amici africani vi raccontano tante favole non ascoltate le favole e torniamo grazie pellegrina olga per il bravo robbie purtroppo non è racconta ste caccate va bene ne parlo di queste caccate chi ne parla ne parla esempio il la verità guardate la verità proprio dice che è una truffa vera e propria quindi andrebbe denunciato il pd la sinistra questi personaggi qua perché ecco il libro che smaschera le balle verdi alti tuffo green questo libro pubblicizzato in alto l'ho menzionato perché è già arrivato sotto mano poi invece ecco qua l'invasione continua caos a porto e empedocle e tutti lo sanno così la sinistra truffa i migranti e gli italiani attenzione beh molto grave questa cosa parlano di accoglienza diffusa e di ussoli i dem mandano messaggi devastanti agli africani infatti arrivano donne incinte convinte di partorire figli con diritto di cittadinanza è l'unica ricciata dei progressisti è la resa amici sono tutte falsità il pd sta mandando messaggi falsi andrebbero denunciati andrebbero denunciati poi dopo andiamo a vedere qualche c'è buonaccini cosa ha fatto buonaccini tutti gli allarmi alluvioni ignorati da buonaccini stefano 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 ci conosciamo anche stefano cos'è il combinato che spacca il pd e che spacca il pd sulla droga perché ci sono proprio arbusti nel letto dei fiumi detriti non rimossi e spropri mancati la regione era stata messa in guardia sui pericoli intanto vi dico una cosa vi dico questo qua perché è tragicomica hanno proibito ve lo dico perché è una verità e molti possono confermarlo e addirittura con con delle leggi delle leggiuccole delle delle cacate del genere hanno proibito in emilia romagna di prendere i tronchi i pezzi di legno così nei letti dei fiumi perché non potete prenderli perché se li prendete voi dopo avete la legna gratis quindi guai guai ai contadini guai a chi si voleva ad operare dicendo vado a prendermi il legno pulisco i letti dei fiumi e tutto mi trovo così un po di materiale di legno da utilizzare poi facendolo seccare per scaldarmi per per cucinare per farmi il fuoco l'hanno l'hanno proibito intanto qua c'è chi mi dice perché la destra non è no tutti uguali perché la destra non tutti uguali sono tutti uguali amici filippo mingoni diciamo che io guardo chi fa le cose giuste le cose sbagliate io non guardo il peccato il peccatore ma guardo il peccato quindi è fondamentale guardare il peccato è chiaro che se tu mi dici la meloni ho promesso che non avrebbe fatto entrare nessuno ci ha pegliato in giro se le meloni dice le accise facciamo le accise e togliamo le accise perché la benzina deve costare poco poi mi trovo la benzina 2 euro ci hai preso per il culo e questo qua è ovvio ma se io vado a vedere però bulli a scuola mazzata sospensione meloni ha ragione se mi vado a vedere il caro dino se mi vado a vedere il discorso dell'immigrante adesso pugno duro 18 mesi di detenzione giustissimo tu arrivi illegalmente in un paese ti fai 18 mesi detenuto se vado a vedere però gli aiuti ad esempio questa cosa degli aiuti alla romagna qua non ne parlano però io ho tanti amici romagnoli che dicono i soldi non sono arrivati altri dicono i soldi sono arrivati ma ce li ha la regione e i beonaccini non li spende un altro di quindi iniziamo a guardare lasciamo stare le idee politiche amici un consiglio che vi do a tutti lasciamo stare conte draghi e la meloni salvini la jlane sono tutti buoni e tutti ioni uguale uguale andiamo a vedere quello che fanno costantemente quotidianamente se fanno una cosa giusta bravo e fatto una cosa giusta se fai una caccata puoi essere anche mia mamma ti dico mamma hai fatto una caccata fine iniziamo se la gente iniziasse a ragionare così e non più per partito preso l'italia sarebbe un paese più bello torniamo però le pagine perdonatemi con questa romanzina poi potete non condividere a me poco interesse io ho espresso la mia opinione attenzione questa non è tizione questa è una delle notizie che non ovviamente solo la verità ovviamente solo la verità non si può parlare di questa notizia ora c'è un protocollo contro i danni della spike dei vaccini intervista cardiologo mac che errori che errori sono stati fatti amici che errori sono stati fatti martina pastorelli tratta questo argomento scuote ripetutamente la testa in segno di disapprovazione il dottor peter mccullum quando gli racconto le misure adottate dall'italia durante la pandemia il cardiologo e dipendologo americano esperto di covid ci prendono per il culo amici in verità che negli stati uniti in america ci prendono per il culo fanno così dicono italiani italiani ma oh my god italiani crazy people crazy people eh la verità è quella amici la verità intanto vittorio tusa dice tutti i bugiardi diciamo che diciamo che ogni dubbio dove è ogni dubbio è lecito vi ricordo che sono in vendita le maglie le abbiamo da vendere le abbiamo c'è il link vi metto il link dopo sono in vendita tornando alle notizie quindi abbiamo questa notizione qua che non è da poco e non è da poco e poi invece abbiamo primi effetti delle ecofollie guardate qua il questo titolone questo titolone all'interno della prima pagina della verità primi effetti delle ecofollie le case vecchie valgono meno guerra in un'unione europea i piccoli proprietari prezzi fermi crollano gli acquisti complimenti distruggete l'economia siete bravi proprio a distruggere l'economia e qua non c'è verdi gialli rossi blu è tutti tutti uguali tutti uguali non ci sono posti nelle carceri dice giovanni lugo è purtroppo giovanni lo so non ci sono posti nelle carceri perché abbiamo fatto entrare troppa gente e ormai manco nelle carceri c'è più posto andiamo a vedere il tempo attenzione il tempo con chi se la prende in prima pagina con la france con la france il tempo 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 comunque vadano le cose lui passa guardate qua il tempo dice nuove emergenza migranti amici emergenza migranti il tempo va giù pesanti tanto siamo tanti collegati questa mattina e nuovo sgambetto francese finta solidarietà dell'eliseo il ministro d'armian annuncia non prendiamo nessuno avete capito c'è annuncio del ministro d'armian non prendiamo nessuno noi francesi noi francesi prendiamo solo chi scappa veramente da una guerra che non scappa da una guerra cavoli vostri quindi in sostanza tutti quelli che arrivano non stanno scappando da una guerra siamo onesti qua di profughi ce ne sarà uno su centomila quindi non essendoci o almeno il percentuale non vorrei faccio che non ho detto una percentuale o ipotizzato per dire quindi essendo gente che scappa in verità da una situazione economica di merda ma non da una guerra non sono profughi quindi la francia dice la legge europea dice che tu se arrivi in italia e non sei un vero profugo tu rimani dalla meloni rimani da salvini rimani da loro rimani da loro quindi quindi è così amici purtroppo è la legge europea la lega basta chiacchiere piante dosi chiarisce con parigi visione e intenti comuni il consiglio dei ministri invece approva la stretta contro i clandestini meloni porta il tema all'onu poi cade f35 ma non si sa dove la difesa usa chiede aiuto sui social e incredibile ma è possibile che non ti ricordi dove l'ha lasciato e poi viaggio tra illusioni dei giocatori reportaggio nelle sale bingo della capitale vabbè poco mi interessa di questo argomento cambiamo cambiamo poi magari a voi interessa ma mai meno scuola il messaggero scuola la spinta del colle più rispetto per i docenti allora qua do ragione al colle attenzione io do ragione direttamente al colle senza neanche ragionarci serve rispetto per i docenti ragazzi quando ero io quando ero ragazzino io che andavo a scuola ma alimentari i maestri non ne parliamo cioè la maestra me lo ricordo la maestra ferrari e il maestro neri che mi guardavano così giusti comandi era così era così alle alle medie non ne parliamo non ne parliamo la maestra della malagori matematica sera dura poi c'è la costantina me le ricordo tutte ed erano maesse quali tu davi del lei oggi mi trovo e non sono d'accordo neanche sui miei bimbi c'è mi trovo che a scuola con le ciao maestra come va come stai oi ragazzi alla maestra alla professoressa oi prof non rompere palle dicono così c'è gente che dice così ci sono dei ragazzacci che dicono così io sono d'accordo per una scuola dura stretta dura forse per me qui lo dico qui lo nego metterei una sorta di una storia ho fatto io ho fatto il servizio militare in accademia militare a madonna mi facevano un paiolo forse per me io rimetterei la leva obbligatoria ma non per fare delle guerre ma per educare i ragazzi e fargli fare un anno d'esperienza fuori da casa 18 anni dove gli fanno il paiolo dove gli fanno un vero paiolo insegnano l'educazione e il rispetto delle istituzioni e degli altri quindi chi è d'accordo a fare un bel anno di militare di leva per tutti sti giovani tutti i trapper pensate tutti i trapper i rapper ipertatuati tutti io sono due so forti io sono a botta vieni qua che ti prenda militare rospo vieni vieni rospetto vieni si chiamava ci chiamavano rospi appena arrivavi era un rospo bene io li rimetterai e li manderei tutti a militare un bel anno di militare un bel culo così un bel senso civico per un anno e vedrai che fanno meno i fenomeni dopo farebbero meno i fenomeni ne sono convinto torniamo alle pagine perdonatemi quindi scuola spinta del colle è quello che dice il messaggero in prima pagina guardate che articolone e più rispetto per i docenti mattarella fori apre l'anno con un monito ai ragazzi e genitori progetto del governo per premiare in merito borsi di studio dai 13 anni quindi giusto anche premiare non solo il purire sono d'accordo invece a centro pagina c'è meloni sui migranti l'europa ci segue e attacca il pd vuole il boom degli sbarchi amici la verità è quella il pd vuole boom degli sbarchi il pd sta utilizzando l'arma dei migranti cercando in tutti i modi di far entrare più possibile il dubbio è lecito perché chiaramente le elezioni l'unico modo per prendere voti è l'insuccesso degli altri quando capiremo quando il pd capirà che i voti non si prendono per grazie all'insuccesso degli altri ma andrebbero presi grazie al tuo successo quando tutti i partiti dal primo all'ultimo capiranno che è meglio prendere dei voti perché dimostri di essere bravo e non perché l'altro è più coglione di te sarà un grandissimo giorno prima o poi ci arriveremo dovresti fare fare la leva pure ai genitori e assolutamente sì io penso di avere anche qua guardate perché io sono molto amico dov'è il mio coso qua sono molto amico di dell'esercito e ho tanti militari vi faccio vedere una cosa che mi hanno regalato proprio l'esercito noi i ragazzi delle dell'esercito guardate allora guardate qua fogone 1 guardate tutti me li ha regalati cosa cos'è la finanza forse guardate poi mi ha regalato questo qua no questo è forse la finanza un altro comunque questo questo è piccolissimo dalla testa piccola poi mi ha regalato quest'altro basco militare tutte le forze mi hanno portato tutti i ragazzi tutti i veterani d'italia si sono che si trovano si trovano mi hanno fatto tutti i regali dei loro baschi guardate tutti tutti poi la spilla questo qua che cos'era questo qua è il protettore delle attacche vabbè questo per farvi capire che tutti i ragazzi militari mi hanno regalato tutti i loro baschi io sono assolutamente rispettoso delle forze dell'ordine e dell'esercito salvo che quando cercavano di chiudere le persone non rispettando la costituzione perché vorrei ricordare una cosa alle forze dell'ordine ricordatevi che non comanda la meloni non comanda la gelene non comanda bonaccini non comanda salvini non comanda taiani non comanda neanche il presidente della repubblica sapete chi comanda la nostra costituzione italiana quella è sovrana tutto il resto a cascata e sotto e sotto molto più sotto vabbè detto questo dopo questa morale incredibile proprio da intellettualoide e quello che sono per poi giusto così perché ricordatevi che un dj potrebbe diventare presidente della repubblica dal momento che un comico in ucraina che suonava il pianoforte con le palle e nudo la chitarra io adesso potrei mettermi nudo mi prendo la che potrei prendere mettermi la chitarra addosso a dorso nudo e e diventare presidente come successo in ucraina oppure suonare il pianoforte con gli attributi e diventare presidente detto questo vi saluto vi voglio bene vi auguro una buona giornata avete visto le pagine comunque i temi sono questi multa da capogiro chi sgarra questa però notizia di stamattina quindi non è ancora non titola su molti quotidiani linea dura sui migranti ne parlano tutti i quotidiani e la sinistra prende in giro tutti come in che senso con messaggi pericolosissimi forvianti perché cercano di far capire e lo dico a popolo africano non venite in italia se il vostro pensiero di dire vado in italia c'è lavoro ci sono soldi in italia se faccio un figlio diventa la nazionalità sono tutte cazzate in italia se venite fate la fame molte di voi le donne finiscono a fare le prostitute questa è la realtà purtroppo dell'italia perché vengono buttate in strada fare prostitute in vostri giovani finiscono a fare gli spacciatori sono diventano tossici vivono per strada in mezzo ai cartoni e proprio da barboni quindi questo è il destino di chi degli africani che oggi vengono in italia uno su cento forse trova da fare il muratore oppure andate finiti a lavorare nei campi sotto cooperativa tre ore all'ora venite a fare gli schiavi in italia io lo dico perché vi voglio bene ho tanti amici africani io sto ospitando io ospito diversi giorni settimane un bambino africano che ha l'età di mio figlio a quale voglio bene come mio figlio e quindi aiuto a differenza dei sinistri che parlano e basta ma non fanno niente se venite in italia purtroppo la verità è che in italia non c'è lavoro il lavoro è sottopagato gli immigrati e che vengono dall'africa molti finiscono a fare o spacciatori o donne prostitute oppure si sono fortunati a lavorare nei campi a tre ore all'ora a raccogliere la frutta questo è il destino di chi arriva in italia ditelo dite questo dite robbi giusti ci ha detto quella realtà la realtà dei fatti è questa oppure fili interminabili in ospedale per essere curati è veramente una situazione tragica quindi non venite in italia un consiglio dallo zio ciao a tutti buona giornata buona giornata a tutti vi voglio bene e ricordatevi questa cosa qua ricordatevi tutti questa cosa a che sono in vendita le magliette e che è bello vedere girare la gente con questa maglia b che ogni dubbio amici è sempre lecito ciao a tutti